Per un minuto, due, due minuti, va bene. Un ultimo appello alle ministre Cancellieri e Severino perché diano disposizioni tassative e controllino che comuni e tribunali mettano a disposizione anche durante il periodo festivo i necessari autenticatori per consentire alle minoranze di raccogliere le firme necessarie per potersi presentare alle elezioni. Minoranze che dovranno compilare le liste un mese prima delle altre forze e infine un appello al Presidente del Consiglio perché siano risarcite le forze politiche ostracizzate dal servizio pubblico radio televisivo e perché vi siano regole certe tuttora inesistenti anche per la campagna elettorale. Grazie. Grazie a lei.